Ciao, oggi faccio un nuovo video e voglio parlarti dell'osteopatia. Quindi cos'è l'osteopatia? Partiamo da questo presupposto, l'osteopatia non è colui che cura le ossa, ma è attraverso l'osso che si va a cercare di risolvere il problema del paziente. Quindi partiamo dall'origine, Steele disse osteopatia, osteonepatia, ossia la strada dell'osso potremmo racchiurare, tradurlo, in quanto secondo Steele l'osso era il punto da cui bisognava partire per andare a risolvere una qualsiasi tipo di problematica. Questo perché? Perché Steele creò la medicina osteopatica, medicina osteopatica in quanto nel suo intento era quello di andare a risolvere sintomi di natura medica. È chiaro che stiamo parlando di anni, fine anni 1800, quindi di conseguenza è una situazione estremamente diversa da quello che stiamo vivendo adesso, i farmaci non sono, i farmaci che abbiamo oggi, la chirurgia non è, la chirurgia che conosciamo oggi, il rischio di morte o comunque di complicazioni post-operatorie erano estremamente alte, per cui sicuramente nasce questo concetto osteopatico come un'alternativa o comunque come un coadjuvante a quello che già era in possesso all'epoca. Se leggi la biografia di Steele troverai casi di pazienti anche con problematiche quali appendicine, per esempio, che venivano trattati tramite manipolazione vertebrale. Questo per dirti che cosa? Per dirti che in realtà l'osteopatia nasce come osteopatia strutturale. Oggi è in voga sicuramente andare a parlare di altri concetti importantissimi, quali viscerale, quali craniosacrale, sono in primis anch'io un amante della terapia viscerale, ma questo non toglie che bisogna riconoscere l'osteopatia anche nella sua componente strutturale. Questo perché? Perché ti ricordo che l'osteopatia nasce con questo indirizzo, con l'indirizzo di struttura, l'osteopatia nasce come struttura, tutto il resto verrà negli anni a seguire. Quindi non riconoscere l'osteopatia strutturale significa non riconoscerne le sue origini. Ed è chiaro che oggi ci si trova spesso a confrontarsi con colleghi che utilizzano magari un approccio completamente opposto, che tendono a denigrare o comunque a considerare meno nobile o meno efficace un approccio strutturale. Questo mi permetto di dire che il più delle volte è vero, ma non perché l'osteopatia strutturale non funzioni, ma perché l'osteopatia strutturale sono veramente poche le persone che la conoscono e che quindi la sanno far funzionare. Dire che l'osteopatia strutturale non funziona significa dire che i successi terapeutici ottenuti dai pionieri, dai maestri dell'osteopatia strutturale, sono successi falsi. Dire che l'osteopatia strutturale non funziona significa dire che non riconosciamo più quello per cui l'osteopatia è stata ideata ed è stata creata. Quindi va benissimo tutto quello che si procede, quindi che si sviluppa negli anni successivi, ma bisogna dare sempre un riconoscimento, comunque pari merito, a quello che riguarda l'osteopatia strutturale. Oggi sorrido quando sento colleghi che mi dicono per esempio che non utilizzano più l'osteopatia strutturale o che hanno smesso di manipolare, perché penso che non sia veramente la scelta più idonea, in quanto penso che l'osteopatia strutturale ha sempre funzionato e funzioni ancora ad oggi, però a patto che la si conosca e la si sappia far funzionare, come ho detto prima. Conoscere che cosa significa? Significa non sapere effettuare una manipolazione, saper effettuare un trust, ma conoscere l'osteopatia strutturale significa saper applicare in maniera corretta i concetti. I concetti base dell'osteopatia strutturale che verranno poi accompagnate dalle tecniche, quindi le tecniche manipolative per esempio, che sono un'arma a carico dell'osteopata, ma che funzionano solo a patto se inserite in una corretta strategia terapeutica, strategia terapeutica che può funzionare solo se basata su concetti forti, sullo zoccolo duro della nostra professione. Quindi quando mi capita di leggere post dove colleghi potrebbero dire basta con questa teoria, basta, ti insegno un corso dove manipoleremo poca teoria, tanta pratica, giusto, i concetti sono fondamentali, ma la pratica è fondamentale, ma non si può pensare di effettuare un corso di struttura senza avere alla base dei concetti forti. Per assurdo preferisco sapere perché devo manipolare una vertebra, perché una vertebra piuttosto che un'altra, che tipo di disfunzione devo andare a manipolare, a correggere, a normalizzare, piuttosto che essere in possesso di 50.000 tecniche, ma non sapere quale scegliere nel momento più adatto sulla disfunzione più adatta. Questo secondo me farà tutta la differenza nel parlare, nel riconoscere e nel far funzionare l'osteopatia strutturale. Ti ripeto, l'osteopatia strutturale non è un trust, l'osteopatia strutturale non è una manipolazione. L'osteopatia strutturale è un concetto che si avvale di tecniche anche manipolative. Ti saluto con questo video, ci vediamo al prossimo.